Dai avanti, filmaci. Dai. Che fai? Hai iniziato? No, rifai il non altro. Va bene. Allora, il film è nato più o meno dieci anni fa, perché appunto in seguito alla mia separazione, come dico anche nel film, in seguito alla mia separazione, anche in un momento di crisi professionale, per cui non avevo lavoro, non trovavo lavoro, insomma, crisi, sento il bisogno, proprio l'urgenza di incominciare, di fare qualcosa e forse anche di raccontare questo momento in cui probabilmente mi facevo anche molte domande, probabilmente anche parecchi sensi di colpa rispetto appunto al fatto di separarsi, soprattutto poi con figli, perché poi quello aggrava sempre tutto, amplifica, così le sensazioni, i dolori, eccetera. E quindi, e credo, perché appunto essendo dieci anni fa è anche difficile per me da ricostruire, però credo che anche in una sorta di lavoro di pulizia, perché poi è anche quello che si fa quando appunto ci separano, devi come riordinare la tua vita e le tue cose, devo avere trovato del found footage appunto, mi ho riprese fatte nel corso del tempo, cassettine A8 che erano lì così in una scatola. E quindi riguardando il materiale ho incominciato appunto a fantasticare, come dire, ma forse posso fare qualcosa con quello che ho proprio a mia disposizione, non posso andare a girare un film, ma posso provare a fare qualcosa. Sicuramente poi sono partita da un testo, nel senso che poi comunque come tutti facevo uso del diario, come sfogo, come momento di riflessione e così. E con Paola Freddi, che è sempre stata la montatrice, la mia montatrice, la mia cara amica, insomma, ci siamo messi e abbiamo incominciato a montare questo film. Quindi questo era il 2014. E la cosa anche divertente è che a quel punto che noi abbiamo incominciato a montare il film, il film si girava mentre si montava. Cioè, perché poi dopo lì c'erano anche, perché io avevo un altro pilonarrativo, oltre i diari, il materiale trovato, il materiale anche proprio degli iPhone, quel materiale che ormai abbiamo tutti, video family, home movies, eccetera. Un altro materiale era diventato, questo è il più perverso di tutti, le mie sedute psicoanalitiche, perché ovviamente io dentro le sedute, no, mi raccontavo. E soprattutto anche il mio conflitto un po' con l'analisi, che è infatti il fatto stesso, no, di riprendere, di nascosto, come dire, proprio, è il conflitto aperto. E quindi era abbastanza buffo, perché io andavo, giravo, rubavo, e poi tornavo in montaggio. E questa cosa era, devo dire, abbastanza, era proprio un work in progress, era come girare, montare, girare, un po' televisivo, girare, montare, girare e montare. Quindi, così, è iniziato così. Siamo andate avanti fino a un certo punto, poi adesso non voglio spoilerare, non so se posso spoilerare in questa intervista, però c'è stato un momento in cui mi sono resa conto che, insomma, dovevo prendere una decisione, o, cioè, che non potevo continuare a fare questa doppia vita, ecco, questo doppio gioco, così. E poi anche, devo dire, che era tutto così, vissuto proprio sulla pelle, che facevo anche molta fatica a essere obiettiva, cioè a essere una regista, poi, di me stessa, perché, in fondo, non c'era uno script, cioè, nel senso, lo script era la vita, non c'era, non c'era, insomma, era difficile e non c'era nessun tipo di oggettività o di obiettività sul mio sentire, no? Per cui mi vedevo troppo sofferente e, appunto, mi chiedevo perché. Io poi l'ho messo un po' da parte, cioè, l'ho messo da parte, perché mi rendevo conto che non ero più, insomma, o forse avevo fatto quello che avevo bisogno di fare, no? Cioè, di tirare un po' di vomito, no? E un po' di bile, di... E quindi l'ho messo da parte. Succede che, anni dopo, lo rivedo, quindi, ovviamente, in uno stato mio della vita, in un altro momento di vita, in un altro... e all'improvviso rido di me. Cioè, mi sono simpatica, cioè, non percepisco più tutto quel dolore, cioè, so che è reale, però, soprattutto, mi faccio ridere, no? E quindi questo, credo, che sia quello che mi ha dato un po' il coraggio, perché è come se, appunto, col tempo anch'io mi guardavo all'improvviso, ero anche io, ero una potenziale spettatrice, no? E mi facevo ridere, quindi, forse per me poi la risata è quello che anche... cioè, insomma, come anche il pianto, no? Quelle cose che ti rendono un po' universale, e quindi questo mi ha dato il coraggio di... perché ci vuole coraggio, appunto. Cioè, io tremo ancora alle proiezioni, insomma, non so... Con il porno avevo meno problemi. È buffo perché il mio primo... uno dei miei primi cortometraggi si chiamava Monique Publique, che poi, in verità, potrebbe essere pure il titolo della Cuzzpa, ecco. Quindi, senza una grande consapevolezza, un grande concetto dietro, però, come dire, sembra quasi che non mi sono inventata nulla, no? O comunque che, in qualche modo, questo è quello che cerco sempre. Anche se il fatto di mettermi in scena è veramente la prima volta, ecco. Io sono una pessima attrice, purtroppo, nel senso che sono molto consapevole della macchina impresa. Se mi chiedi di essere me stessa, lo posso anche fare, cioè, tipo, adesso la ignoro, è lì che mi riprendo, ok. Ma se io devo un po' fingere, no? E fare un po' un personaggio, ecco, proprio lì divento veramente goffa. Quindi, credo che in questo caso sono riuscita a mettermi in scena proprio perché non pingevo per niente. e quella, quella... è un... è un... è un... è un... Grazie a tutti.